Ciao a tutti ragazzi, è da tantissimo tempo che non faccio un video sul mio canale oggi sono qui per fare un video di un po' fail, epic fail è un video su un gioco stupidissimo che ho visto su youtube però volevo li proporvi io ed è per la 360 infatti come potete vedere sono sulla mia bella xbox e si chiama default wall, cioè già il titolo ti fa capire molte cose giusto quindi ecco c'è una di giochi più no sense che abbia mai visto ok allora play è la demo naturalmente perchè io non vado a spendere 80mg su point che è il migliore che ho visto su youtube e che è... non ho capito che cazzo di senso ha naturalmente infatti quando l'avevo visto su youtube c'era l'asse invertito di licenza allora se non mi sembra ci dovrebbe essere una freccia infatti si that's right that's right allora ci saranno quattro porte quattro porte si possono chiamare un po' adesso c'è scritto dai qua will qua dai forse ma shiii scantai cazzo ma vaffanculo porco ma vaffanculo fa la bianca da questa minchia sono un razzista perché riesco alle pare normali ecco madonna cazzo io ragazzo sto scritto io io will farla bianca dai ma aspetta se vado qua che cosa succede non l'ho vista no no non cazzo niente comunque se non mi sbordo devo andare qua ecco ci sono tanti occhi oh cazzo oh cazzo oh cazzo e così e praticamente se tu vai così tipo oh cazzo era che cazzo è stato ma baffa culo ma baffa culo ma che minchia di posto è baff poi se qualcuno mi dovesse spiegare la trama di questo gioco se c'è una trama e adesso guarda che un po' cosa succede ecco ecco spiegatemi se senti questo fottuto gioco ecco dovrei andare in questa palla e dovrei morire se non sbaglio ecco e ditemi che fottuto senso ha un pisello che tutto bianco là sopra bah e muoio e muoio e che mosca d'uso? adesso ditemi che senso ha questo gioco del cazzo ecco guarda c'è anche il rumore già fa capire molto giusto guardate c'è un pisello tipo che che disputa sangue boh vabbè comunque questo era un piccolo video così perché era da tanto tempo che non facevo video ehm video riguardanti ehm ehm l'altro profilo che ho riuscito sono riuscito a consigliare un paio di microsoft ma la cosa che non ho capito è ehm invece c'è scritto che quando raggiungerò i 100 microsoft ehm ehm e tra quando raggiungerò i 100 microsoft i point mi darà me li assegnaranno al cam giusto e fino a qua ci siamo ma allora io vorrei fare una cosa oh cazzo ecco 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 il minimo adesso sono sul profilo di alessandrero il mio profilo principale però se volete giocare con me ofico 11 o uno dei miei giochi ehm guardate su alessandrero per i giochi che ho poi perchè qua non sono silver però andate su tutte le 96 se volete se volete se volete giocare online se a me in ogni caso quindi ve lo farei vedere praticamente ancora non ho ragione di 100 microsoft giusto eppure stavamente ehm aggiungerò i 100 microsoft mi darà che il mio saluto attuale è di 30 microsoft forse 50 no 30 vabbè mi darà per arrivare entro domani 50 microsoft perchè no a T20 da dare 50 perchè ho fatto il corso come si chiama ehm se vuole vedere ho fatto il la quick come si chiama il cosa il sondaggio gratuito che è per tutti i tipi di utenti il gold e silver ehm ancora non mi sono arrivati i 20 microsoft vabbè ma penso che la di 198 ore quindi entro 3 giorni mi dovrebbero arrivare i 20 microsoft quindi facendo la somma 30 più 20 se non avete 1 in matematica se sapete sempre che non è 1 dovreste capire che fa in totale 50 poi vabbè allora bene ragazzi ci vediamo alla prossima già come potete vedere ho un posto per lo sfondo della 360 su natale perchè soprattutto già diciamo che stiamo andando su primatelizio comunque vabbè ci vediamo tutti alla prossima penso di fare un'altra video non sono su gt magari come potete vedere per me i giochi guardate ehm c'è dovrei vedere questo dov'è obiettivi e nusca salugati e the orange box testerebbe i miei due quindi magari potrei fare un video così testerebbe i miei due sulla mia collezione di auto per esempio 413 una volta il mio amico è arrivato che è andato a casa mia quindi non lascia per ora che ho zero obiettivi infatti perchè proprio non ho ricevuto mv3 vabbè un video di mv3 dovrei farlo pure ehm un altro video c'è dovrei avere un video caricato c'è già nella micro ma dovrei caricarlo su youtube è un video di una partita single player di di mv3 poi lasciate stare questi giochi di battle osangeles the dancing del casino super street fighter 4 e e e vabbè lasciate stare anche Tony Hock vabbè alcuni giochi anche il Kinect avventus anche perchè non c'è la Kinect insomma potrei fare anche per esempio un video su testerebbe livello 2 dove vi potrei mostrare ehm la mia per esempio collezione di car di auto che diciamo che sono ma discretamente beh adesso è in questo momento con la collezione già dovrei avere 5 penso che domani non potrò fare questo video perchè video di dio 2 perchè sono abbastanza impegnato mmm comunque c'ho anche testerebbe limitato 1 se volete saperlo e anche la c'ho una dischia la collezione di auto c'ho infatti anche molti più obiettivi per esempio possiede almeno 10 auto differenti quindi dovete pensare almeno che ho 10 auto non è male poi ho detto ma e poi c'ho mhm faccio direttamente vabbè ok allora ci vediamo alla prossima mettete un bel mi piace mi raccomando iscriveteci che volete vedere una bella collezione di auto così oppure vedere che ne so un gameplay di cta 4 online però naturalmente non fatto con questo profilo e allora vabbè mi saluto e alla prossima qui dal vostro caro marialix mi saluto mi saluto mi saluto mi saluto mi saluto mi saluto mi saluto